Proprio dieci anni fa, in questo periodo, si stavano concludendo i preparativi per gli eventi che avrebbero celebrato l'anno successivo, nel 2011, il centenario della nascita di Francesco Pasinetti grazie a un finanziamento regionale. Data la grande attività e poliedrica del personaggio volevamo partire dal salvare e rendere definitivamente accessibili i suoi film, soprattutto documentari, ne mancano ancora quattro, con la collaborazione dell'Istituto Luce, che poi fece anche il cofanetto che contiene l'opera Omnia, della Cineteca italiana e della Cineteca nazionale. Poi l'altra cosa importante era archiviare in maniera scientifica negativi e positivi della produzione fotografica, cosa effettuata grazie alla mai dimenticata figura di Alberto Prandi, che fu fondamentale per fare questo. Successivamente successero anche delle scoperte, cioè c'è stata l'apparizione delle veline che aveva fatto di Pasinetti l'autore del primo Hollywood Party, cioè dal primo dopoguerra, dal 22 maggio 1945, Pasinetti aveva su Radio Venezia una trasmissione dedicata al cinematografo. L'altro momento fondamentale fu l'approfondimento realizzata da Luisa Pagnacco dopo veramente anni di ricerche sul teatro. Il teatro che è un po' la spina dorsale dell'attività di Pasinetti, che comincia col teatro delle marionette che insieme al fratello Pier Maria serviva a rappresentare vizi e virtù degli amici di famiglia e della società della loro infanzia, per arrivare poi alla regia e alla scenografia lirica e soprattutto ad una continuità di espressione attraverso drammaturgia che in qualche modo prefigurava il percorso psicologico la necessità di riprodurre anche psicologicamente i rapporti di coppia eccetera che Pasinetti sognava di trasferire anche nel cinema, cinema che poi non gli hanno più fatto fare ma che invece è presente in queste commedie abbastanza inedite che approfondite appunto dagli studi della Pagnacco diventarono per Giovanni Montanaro la base per uno spettacolo che venne rappresentato una volta sola al Teatro Goldoni nell'ottobre del 2012 con Pierpaolo Di Meio che è il nipote di Elidavalli con la quale Pasinetti aveva avuto un'affettuosa amicizia e con Giulia Briata e Andrea Tonin. In questo momento di forzata assenza da un certo tipo di vita pubblica e di ritiro nel privato si è pensato che nel canale dell'Ateneo Veneto potesse essere ripresentato questo spettacolo visto una sola volta da un centinaio di persone anche perché sia Carlo il papà che Francesco e poi Pier Maria il fratello erano tutti quanti soci dell'Ateneo Veneto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo a ballare? Andate pure, mi fermo un momento qui con il bambino. Te ne scelgo una io, eh? Andate pure, mi fermo un momento qui con il bambino. non fa male, mi fermo un momento qui con il bambino. Non fa male, ne ho mangiate tante, non fa male. Fa male alla pancia? Non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, ne ho mangiate anche ieri. Sta buono Bruno. Non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. E' vero, non è vero, non è vero, non è vero. E' vero, non è vero, non è vero. E' 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 vero, non è vero. Il desiderio di narrare narrare, diceva di Francesco Pasinetti suo fratello Pier Maria, riferendosi a quella smania che sembrava animare Francesco, che è artista rapido, quasi ossessivo. Tutto nasce da lì, da quel desiderio di narrare, di raccontare in ogni forma e in ogni modo. Francesco Pasinetti ha sperimentato ogni forma d'arte, dal cinema alla fotografia, dalla narrazione alla scena. Parole e immagini, frasi e visioni. E il teatro, anche il teatro. Ma vediamo chi era Francesco Pasinetti. Un uomo borghese, benestante, che ha amicizie e aderenze in società, che va all'università quando erano in pochi ad andarci. però non sarà mai ricco, anzi farà molte cose nella vita, proprio per la necessità di guadagnare, di quadrare i conti. Un uomo che parla in italiano, quando ancora il dialetto era la lingua nelle case. Un maestro in discipline diverse. Un uomo profondamente italiano, che vive sotto il fascismo. Un uomo profondamente veneziano. Nasce nel 1911 Francesco Pasinetti, figlio di Carlo, medico, e di Maria Ciardi. A sua volta figlia di Guglielmo, vedutista, ottocentesco, piuttosto noto in Laguna. E sono belli i racconti della sua infanzia. Quando sceneggiava vicende di Burattini, in cui tutti i personaggi altolocati dovevano morire violentemente. meno uno che rimaneva vivo in scena, ma diventava pazzo. E' abbonato al Goldoni, dove va con la zia. Non è uno scolaro perfetto. Viene anche bocciato in quinta ginnasio. Poi cresce. Si laurea all'università di Padova in lettere, con voto 103. E' la prima tesi in Italia sulla storia del cinema. Fonda a Venezia la rivista Il 21. E' attivo nel GUF, il gruppo universitario fascista. Nel 1934 fonda la Venezia Films. Nello stesso anno realizza Canale degli Angeli. E mette in scena la Orfeide di Gianfrancesco Malipiero, alla Fenice. Nel frattempo è giornalista. Segue la nascita della mostra del cinema. Nel 1937 è a Roma, per insegnare al Centro Sperimentale di Cinematografia. Lì scrive Lontananza, forse il suo pezzo teatrale più bello. Poi continua, nel 1939, con una storia del cinema dalle origini. Nel 1940 collabora con l'Istituto Luce. Nel 1942 realizza dei documentari su Venezia. La gondola, i piccioni di Venezia, Venezia minore. Nel frattempo cura la documentazione di 35 operazioni chirurgiche. e si dedica anche alla regia lirica, essendo attivo nel teatro delle arti di Bragaglia. Ha un rapporto privilegiato, speciale, con il fratello Pier Maria, scrittore che non si può non menzionare. Muore non ancora trentottenne, nel 1949, appena finita la guerra. E chissà cosa avrebbe fatto se fosse sopravvissuto in quell'Italia in cui il cinema, il suo cinema, diventa all'improvviso centrale nella narrazione della società. Ma tanto ha fatto, comunque, in così breve tempo. E probabilmente il modo migliore per ricordarlo è quello che ha fatto anche per la sua città, Venezia. Restituendo il mito e il volto della città lagunare alla sua realtà. Pasinetti è stato capace di raccontarla come una città vera. Lontana da tentazioni decadenti, da tante deformanti rappresentazioni di tanti convenzionalissimi film, da un'immagine da cartolina. Ha dato dignità a tanti luoghi che nessuno ha rappresentato e compreso, rendendoli protagonisti. E nella nitidezza delle sue immagini sembra quasi anticipare la straordinaria stagione del neorealismo. E' un umanista Pasinetti. Non vive gli orrori della guerra. Non è partigiano. Vive in una società fascista senza allinearsi, ma nemmeno senza discostarsi. Vive un periodo di crisi della cultura che lui riesce a registrare, osservare con qualche intervento che sembra così moderno. Questo, per esempio, sullo studio alla facoltà di lettere, sembra scritto oggi. Andando nelle università, facoltà di lettere, abbiamo la sensazione che i professori stiano perpetuando per noi, ed insegnandoci a perpetuare presso scolari di domani, una scienza che non serve. Ma dobbiamo adoperarci a salvare la facoltà di lettere dal suo fallimento. E in questo ci appelliamo anche agli insegnanti che vivono nel loro tempo. Dobbiamo tentare che essa, mentre dovrebbe aprirsi su strade vivissime e rigogliose, non divenga, invece, una cosa statica, che si frequenta come un caffè perché fuori piove. Bisogna, invece, vincere delle inerzie e delle abitudini, perché essa non resti una setta iniziatica, un appendice morta che nessuno sente, un passatempo per giovanette, un archivio di scartoffie inammissibile, data l'importanza sconfinata dei tempi. Come ogni anniversario, anche il centenario di Francesco Pasinetti è un'occasione di memoria, un'occasione per comprendere gli strani percorsi di una memoria che muta, che non si arresta, che prosegue, che trova nuove tracce, anche qui, anche in un teatro. Perché Francesco Pasinetti, noto più per il cinema, per le immagini, è stato anche e soprattutto parole, in ogni forma, in ogni modo. E la memoria, la descrizione, la capacità di catalogare è il tema di Pasinetti. Pasinetti, forse ancora più del desiderio di narrare, narrare. Pasinetti aveva il desiderio di descrivere, descrivere. O meglio, quello di salvare. Scorci di Venezia, pezzi della società che aveva intorno, luoghi che gli erano cari. E poi Pasinetti si incrocia con la memoria perché lui aveva una memoria prodigiosa. Non aveva alcun archivio, ma teneva tutto a mente, senza che ci sia nessuna notazione, per esempio, nelle tante fotografie che ha scattato. E anche perché molti suoi materiali si sono persi nell'incendio della sua casa. Sapeva esattamente cosa conservare. Per esempio, lui ha dipinto per tutta la vita, ma ha anche distrutto quanto dipingeva. Di tutta questa produzione, di tutta questa memoria, il teatro è un appendice. Anche se i testi sono numerosi, l'attenzione di Pasinetti costante è un appendice perché più vivide sono le immagini. Ma è un appendice importante, decisiva. La scena è la vita. Ogni personaggio entra in scena con le sue caratteristiche, le sue abitudini, gli strumenti della sua particolare attività. Fa dire a un suo personaggio in tutti, hanno ragione. Ma c'è una continuità, perché in fondo Pasinetti ha sempre fotografato, ha sempre cercato delle immagini, ne ha create. E anche i suoi testi teatrali sono immagini esatte. Anche nel suo teatro ci sono movimenti cinematografici, movimenti di scena con carrelli. Tutto è immagine. Bisogna in fondo prendere anche le sue elaborazioni teatrali come fotografie. Una delle parti più belle da leggere dei testi è infatti forse la presentazione della scena. Sentiamo per esempio quella di Carnevale. Primo atto, Carnevale. In fondo ad una strada che si stende tra giardini di una città di provincia è una casa a due piani. Nel primo abitano Bernardo e Anna Rai. Ai lati della via dei giardini sono sette fanali. Le finestre del salotto di casa Rai danno sulla strada. Questo salotto è stato arredato da Anna con discreto gusto, un po' all'antica. Vi sono poltrone, una scrivania, un tavolino sul quale è il telefono, stampe alle pareti. I mobili sono rimasti sempre disposti in questo modo da quando Bernardo e Anna si sono sposati 15 anni fa. Le stoffe delle tende e delle tappezzerie sono un po' stinte. L'andamento di questa casa soggiace ormai alle abitudini. Nel salotto vi sono tre porte. Una conduce all'andito di ingresso dove si apre il portone che dà sul pianerottolo. Le due altre conducono alla sala da pranzo e alla camera da letto. Quando si alza il sipario è in scena Luciana, una ragazza di circa 20 anni. Ha un certo rispetto per Anna, molto più anziana di lei, ma le due donne sono amiche. Luciana guarda alla finestra che dà sulla via dei giardini. Si ode dalla stanza da letto la voce di Anna. Questa esattezza c'è anche nelle sceneggiature. Pasinetti affronta i due generi, sottolinea le differenze. Dice per esempio che il film è una narrazione visiva e come tale dobbiamo considerarlo. Differente quindi da un'opera di teatro che è una narrazione dialogica. Cioè il cui sviluppo è determinato dalla dialettica e non tanto dai movimenti dei personaggi. E così mentre il regista cinematografico crea egli stesso l'opera d'arte, invece la regia teatrale è labile. E l'opera del regista di palcoscenico si conclude alla fine di ogni singolo spettacolo. Tuttavia anche nel teatro cerca il materiale plastico, la vita. Ma più che il movimento colpisce l'esattezza. C'è una grande esattezza nella descrizione di una scena. Così che entriamo direttamente in un luogo. È come se lo vedessimo, come se lo vedessimo insieme a Pasinetti. E proprio per vederlo, prima di tornare al teatro, è bello lasciarsi andare un attimo alle immagini più evocative di Pasinetti. Quelle con cui ha raccontato Venezia. Per capire Pasinetti, per tornare dopo al teatro di Pasinetti, è necessario vederlo. E così recuperare quel tempo insieme a lui. Quello stesso tempo in cui lui scrive il suo teatro. Quello stesso tempo in cui è ambientata la sua vita. quella Venezia che non c'è davvero più, che si nega allo sguardo. E non è solo la Venezia minore, ma la Venezia viva. Quella in cui i piccioni si alternano ai giocatori di bocce. Quella in cui la piazza è dei veneziani. e tanti piccoli cinema, Massimo, Centrale, Olimpia, vivono dentro la città. Quella Venezia piena di bambini e di suore. Piena di luci e di ombre. Quella Venezia decadente che, in fondo, sembra ancora la Venezia di oggi. Ci sono frasi che squarciano in Pasinetti. Per la loro attualità. Per esempio quello che dice Lorenzo in Giochi. Non pretenderai mica che stia tutta la vita a rimbecilirmi qui a Venezia, eh? Non dico che la città non possa presentare delle attrattive. È una bella città dal lato artistico. Ma una città morta. Un piccolo museo per forestieri. Ed ora me ne vado. Ho deciso. ! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E partiamo dalla fine, dall'esempio più fulgido, dal momento più importante, lontananza. È un testo autobiografico, in fondo, con temi cari, appasinetti. Il tema del viaggio, la distanza tra città e campagna, la musica, ci sono già qui. Amori difficili, contrastati, sospesi tra la morale corrente che tutto governa e il tema dell'inquietudine di ogni uomo. La storia è il racconto di quella trepidazione che provoca il passaggio dall'infanzia alla giovinezza, in cui i ricordi possono essere anche tristi, ma ci si rassegna, sai, anche a questo. E poi il tempo passa lo stesso. Una protagonista femminile, Teresa, ci spiega bene l'epoca con questa frase. Poterlo essere anch'io sincera, ma si è abituate a vivere senza mai dire quello che si pensa e ci si esprime in termini convenzionali, nell'inquietudine di un segreto e nel ricordo. Ma è solo quell'epoca? Non anche la nostra? E quell'epoca non è solo il fascismo, ma una società ingessata, con donne destinate al matrimonio e uomini che devono far carriera a tutti i costi, sospesi tra l'arte e la professione. C'è molta autobiografia. C'è il Pasinetti che va spesso a Refrontolo, in campagna e poi torna in città. Ci sono i problemi del suo gruppo di amici, dei giovani che aveva intorno. Il testo di lontananza venne promosso nel circuito ufficiale del teatro di prosa italiano. Viene rappresentato l'8 aprile 1937 presso il Teatro Universitario della Sapienza di Roma. E dobbiamo immaginarci quel mondo teatrale in cui ci sono professionisti come la Masina, la Proclamer, Brazzi, Trieste. Ecco un dialogo tra Teresa e Ludovico. Ti piace la mia casa? Come tutte le case dove ancora non è formata una famiglia. Dimmi qualche cosa, su. Ma io non ho nulla da dirti. Ludovico. Che c'è? Ti rammenti quando mi hai chiesto? Oggi hai parlato poco, perché? Ed io non ho saputo risponderti. No, non ricordo, è trascorso tanto tempo. Non essere cattivo con me. Infatti non credo di esserlo. A 19 anni quanti ne avevo allora, tu capisci. Eppure mi sono ripromessa di confessarti. Si passavano ore al sole, ricordi. E tu lo sapevi che io, sì, ti aspettavo là vicino alla barca, dall'altra parte del lago, ma ti sfuggivo. Non me ne sono mai accorto. E poi... Non dire così, non è possibile che tu ora te ne sia dimenticato. Ma comprendo, tu in tanti anni hai veduto tanto mondo, mentre io... E mi pare adesso, lì, vicino alla barca, quella barca di colore stridente, un verde di foglia secca e il lago azzurro invece. Soltanto lo smeraldo poteva essere accostato al colore del lago. Tu hai rivestito così, un abito da spiaggia di quel colore. Ma che vado dicendo? Fantasie. Eppure ci ho pensato più volte dopo. Si passavano ore e tu non ti accorgevi che io... Guardare e fantasticare sui colori... Non potevi avvertire questo mio pensiero. Un pensiero di un'ora, ma adesso mi sembra un'ora soltanto. Invece erano molte ore, giornate. E negli anni che sono trascorsi da quel tempo, tutte quelle ore, quelle giornate, si sono riunite in pochi attimi soltanto un attimo. Una immagine con quei colori. Mi sono chiesta talvolta se invece non vi sia stato davvero un attimo più importante degli altri. No, sempre, ogni giorno si ripetevano sempre gli stessi movimenti e al solito posto tu apparivi. Così è stato per molto tempo. Ragazzi. Eppure si suol dire dopo, le ore più belle, è giusto, ma allora non si sa nemmeno ciò che si vuole. Sì, un bisogno fisico, questo sì, o un'età difficile poi la si chiama, signorine di buona famiglia. Soltanto durante i trattenimenti, i balli, noi ci si accosta, ci si sente stringere fra le braccia. Questo si desiderava allora. Eppure durante il bagno, alla spiaggia, nell'acqua. Ma allora si ride, oppure si ha il pudore di rivincolarsi. Sì, non dovrei dire queste cose. Sai, quando sono giunta qui la prima volta con mio marito, ho subito cercato se dalle finestre, da una delle finestre almeno, si vedesse la villa, la terrazza. Mio marito stava prendendo delle misure là, è uscito poi, non so, e qui sono rimasta sola, alcuni istanti. Un senso di vuoto che non avrei dovuto sentire. Poi la sua voce, due volte. Teresa, Teresa, come mi par strano parlare di mio marito, di lui che ho conosciuto fuori di noi, di quelli che assieme avevamo costruita la nostra giovinezza. Sì, perché erano i tempi della giovinezza, senza pensare al dopo, al domani. A un certo momento si sente il bisogno di qualcuno che ci accompagni, anche se non gli racconteremo mai che in un pomeriggio d'estate due colori non si accordano insieme. E i nostri occhi sono attratti da un abito da spiaggia colore di smeraldo. Lo hai ancora quell'abito? Ma come sono stupida a chiederti questo. Come se potessi avere importanza. Sarebbe curioso che effetto farebbe ora. No, non prendermi in giro, lo so che sono sciocca. So già quello che pensi. Forse pensavi anche allora lo stesso. Ed io sentivo battere il cuore. Perché non dirlo? Avrei voluto che tu mi abbracciassi. Ma se tu lo avessi fatto, ti avrei respinto. Vedi come si è. Si desidera ardentemente che un fatto avvenga. Se fosse avvenuto invece lo si avrebbe rifiutato. Così per poi pentirsene. Ma per trovare allora una risoluzione che ci metta su un livello di superiorità. E non si aveva il coraggio di chiedere. Ora sì. Ed è troppo tardi. Abbiamo sistemato la nostra vita in una situazione convenzionale qualunque. Risolta la nostra adolescenza così. Dopo aver sperato una risoluzione originale. Certo più di questa. Ma che la nostra superbia e la nostra timidezza avrebbero rifiutato. Quel giorno, all'altare, io ho riveduto quell'attimo, quell'immagine. Le tre del pomeriggio e i colori del lago, della barca e il tuo... Non potevo allontanare da me questa immagine. Poi la notte ho pensato al tuo colore, freddo e limpido, che è anche il colore dei tuoi occhi, che sanno vedere ciò che noi non sapremo mai vedere. E ho pensato a un bambino, un riflesso nello sguardo di un bambino. Ho sognato di avere un bambino con quello sguardo. Ti ho domandato questo soltanto. Tu hai perdonato la mia superbia. Ora ti ho detto tutto. Vorrei che il mio bambino ti piacesse. Lo avrò fra sei mesi. Ma tu forse andrai lontano ancora, vero? Sì. Ludovico non può che andare lontano, perché quello è un amore impossibile. Non perché non la desideri, ma perché il matrimonio a quell'epoca rappresentava una barriera insormontabile. I due si baciano, senza passione. Ed è l'ultima cosa che faranno. Un giorno avrei voluto vedere il tuo corpo. Proprio là, in riva al lago. Io vedevo quella barca in controluce. Ho pensato di condurti lontano, all'ombra delle montagne, e vederti nuda. Là, dove sode l'eco ripetere tre volte le parole. Non avrei parlato. Volevo vederti soltanto e toccarti come una statua. Ma se così fosse avvenuto, oggi non potresti forse attendere di guardare un giorno negli occhi di tuo figlio. Volevi prendere delle rivincite, ma la tua rivincita è questa, la tua maternità. Se tu l'hai sentita, se tu la vivrai qui nella tua casa, potrai pensare allora di aver vinto sulla lontananza, sull'inespresso desiderio di essere posseduta al di fuori di un legame che stabilisce per tuo figlio una vita sicura. Parole aride queste mie. E se non valgono ad esprimere la bellezza di quello che tu possiedi. E domandi l'amplesso di un uomo solo perché la vita di questo che ha veduto tanto il mondo ti pare così piena di ignoto da poter dire di aver gustato un frutto proibito. Tradire così l'uomo che ti accompagno, che è padre di tuo figlio. Anche se questi vuoi che abbia gli occhi del colore di un attimo, di amore. Il colore di un altro uomo. Ma non si tratta di uomo, bensì della vita che tu hai racchiusa in quell'istante, alla quale hai dato un colore che hai veduto riflesso prima di me. C'è chi vi dà un suono, chi vi dà un profumo. Io che cosa sono? Un uomo dal cuore di pietra, che dovrebbe spezzare la bellezza della tua vita di oggi e di domani. Per questo non ritornerò più qui. Ci sono sempre un uomo e una donna che si parlano e che poi parlano da soli, che cercano se stessi, ma entrano sempre in gioco tra di loro in relazione. Ci sono i temi borghesi, i luoghi natii, sentimento, lontananza, nostalgia, solitudine, delusioni d'amore, raffronto generazionale, città, campagna, la guerra d'Africa e i bambini, tantissimi bambini. La famiglia è l'unica garanzia di vita felice, mentre nulla danno i rapporti di coppia superficiali, se non illeciti. La donna è angelicata, salvifica. Dice Zeno nella sorella, tu non sei un'altra cosa, sei la certezza, sei la sola cosa che io abbia vista sacra. Il teatro di Pasinetti sta nel quadro dello spirito fascista che permeò la cultura italiana. C'è il fascismo, ma resta sullo sfondo. Certo, c'è un apparato burocratico che limita la fantasia degli autori, una supervisione continua sui testi, una censura bonaria che chiedeva talvolta qualche ritocco, che ha visionato 18.000 copioni tra il 1935 e il 1944, con il che è evidente che qualcosa passasse. È divertente leggere cosa scrive il revisore Zurlo in relazione alla lettera scarlata. L'autore è americano, è nero. Passa per il più grosso romanziere americano, ma è morto da circa 80 anni. Solo vi pregherei, per evitare eventuali reclami di cattolici, so per esperienza che bisogna tutto prevedere, di far risaltare molto che siamo in un ambiente di puritani. Tornando a Pasinetti, lui sembra comunque poco interessato alla politica e molto di più ai caratteri, ancora uomini e donne. Incerti, inquieti, che ritrovano l'ordine nella società, ma che forse perdono la libertà. Sentiamone ancora. Sentiamo Anna di Carnevale. Poi, un giorno, i passi di Luciana, che aveva 12 anni, divennero più risoluti. Luciana era nervosa, perché era successo chissà che cosa qui dentro. E quante lacrime. Perché io, mi chiedevo, Luciana non è venuta giù stasera? Ma avevo immaginato che ci fosse qualche cosa che Luciana non voleva dire alla sua amica Anna, che per tanto tempo aveva pensato di poter far dimenticare a lei la mancanza della sua mamma. Ma io non voglio dirti, potrei essere tua madre. E ora prendiamo un uomo, Giancarlo, di Cammino Felice. Nessuno. Questa era la mia preoccupazione, la mia paura, vent'anni fa. Essere nessuno. E allora, forse spinto, sostenuto dalla mia vocazione commerciale, ho camminato. Le mie aspirazioni. Come ricordo, quando a vent'anni ho veduto un tale, un mio compagno di scuola, che era più di me, era riuscito ad ottenere un incarico di, non so bene adesso, una missione geografica, archeologica o qualcosa di simile, era riuscito a fare il primo gradino. Ed io non ancora. L'invidia, forse. Il desiderio di superare, di essere molto ricco, viaggiare, ma non per la soddisfazione di vedere e di scrivere quella soddisfazione che ha Enrico, ma perché gli altri mi riconoscessero un giorno. Perché il mio nome su un registro di albergo non facesse lo stesso effetto di un nome qualunque. E sono molto ricco, e ho raggiunto quello che volevo. Non mi sono mai interessato agli altri. Mi accorgevo di andare verso quella solitudine che non è quella desiderata ora. Perché io ho paura di me stesso, e vado in cerca degli altri per essere da loro riconosciuto. La tua solitudine, invece, è un'altra cosa. La vedo come un rifugio nel quale ci si può abbandonare a... Sì, a raccontare queste sciocchezze che ti sto dicendo su di me. Ma è la prima volta che riesco a rivelarmi sotto questo aspetto, a confessarmi. Ma dove va a finire il mio cammino? Forse è già finito. Sono arrivato, e ora debbo mantenere questa posizione. È ciò che mi rimane da fare. Me ne accorgo quando leggo sui giornali la lista delle autorità ad una cerimonia, quando sotto ai vantaggiosi bilanci di una ditta, di un'industria, c'è la mia firma. E qualcuno mi invidia, così come io, invece, invidio Enrico per quel poco che lo conosco, per ciò che scrive, che dona agli altri, così, senza chiedere ricompense. E anche lui sarà amato dagli altri. Avrà forse dei nemici. Io, invece, ho soltanto molti conoscenti, moltissimi, sparsi in tutto il mondo. Ho conosciuto anche i poveri, ma i veri poveri non chiedono nulla. Tentano con le proprie forze. Sperano. Sono un po' stanco alla vista da qualche giorno, ma passerà. E ho tanta voglia di rivedere i miei alberi. Ora, mentre parlavo con te, non ho veduto che quella fitta boscaglia di acace e di castani. Sono personaggi molto simili tra di loro, quelli di Pasinetti. Si può dire che entrano ed escano da un dramma all'altro, con soluzioni di continuità. Sono personaggi che hanno a che fare con la sua vita, che riguardano la sua vita. Ma c'è un momento in cui la sua vita si sovrappone a un'altra vita vera, quella di Alida Valli. Alida è una giovane allieva del Centro Sperimentale di Cinematografia. È arrivata a Roma appena quindicenne, col sogno di fare l'attrice. E proprio nel momento in cui, delusa dal mondo del cinema, sta per fare i bagagli per tornarsi a casa, ottiene la parte come protagonista nel film Il feroce Saladino, di Mario Bonnard, che la lancia sul grande schermo. Pasinetti la prende sotto la sua ala protettrice e già vede in lei, come apprendiamo in una lettera scritta alla Valli, quella che può diventare la più considerata attrice italiana. Tra i due nasce un rapporto solidale, fatto di profonda stima e una fitta corrispondenza. Si raccontano, si confidano, fantasticano e danno il via a un mare di progetti che per impegni reciproci rimangono nel cassetto. Pasinetti la chiama affettuosamente Kitty, la venera e trova in lei una musa ispiratrice. La Valli trova in Pasinetti più di un maestro. Un uomo capace di concedere il suo sapere, la sua sensibilità e il suo lato umano, senza remore ad una ragazzina nemmeno ventenne. Cara Kitty, quanto a ciò che mi dici nella tua lettera circa la tua salute, è fondamentale che tu segua un sistema di vita sano e sportivo, senza ambienti chiusi, tipo balli e riunioni frivole, e senza fumo. Sono esclusi solo i cinematografi, perché innocui e per ragioni di cultura. del resto sono persuaso che tu puoi diventare per le tue caratteristiche una attrice di primo piano e che non valga quindi la pena di tenere una vita di mezzo, nel tono di vita intendo, per diventare un'attrice di media portata, come troppe delle nostre attrici italiane. oltre al moto e allo sport, sarebbe necessario soprattutto che tu non fumassi, ma non puoi certo dirmi che non fumi più, infatti non me lo dici. Io ricordo bene la tua tranquillità fisica e spirituale nei giorni in cui fumavi meno, quindi non fumare più intanto. Prova. Pensa che i tuoi frequenti mali non siano opportuni per una carriera cinematografica. Se fin d'ora tu non capisci completamente quello che devi fare, è finita. Tu sai quanto poco bambina io ti consideri. Certe cose nessuna ragazza le capisce quanto te. Mio caro Frank, devo raccomandarmi anche io non bere troppo whisky per curare il raffreddore, perché ti potrebbe far male ed io ne sarai davvero desolata. Al mio ritorno ti voglio trovare del tutto ristabilito e piuttosto in gamba. Ho in mente di fare grandi cose con te. Infatti ieri ho riletto buona parte del mio diario e ho trovato delle cose assai, assai interessanti. La descrizione di un mio bagno notturno nel luglio 1934, per esempio, anche se scritto male, è molto bella e penso che si potrebbe inserirla nel nostro soggetto. Ma di questo parleremo quando sarò ritornata a Roma. Cara Kitty, ieri a Torcello e tra gli orti di Burano e Mazzorbo e le secche e le isole e il cielo e l'acqua l'acqua di laguna erano limpidi. Ho pensato che tu sarai un giorno con me in quei luoghi nei silenzi delle isole. Caro Frank, ho trovato stamane due lettere che attendevano il mio ritorno da Sanremo. Mi sono abbastanza divertita laggiù. Un clima davvero primaverile ed un'enorme quantità di gente simpatica. La festa dell'ultimo dell'anno è stata brillantissima. Ho ballato senza interruzioni, bevuto molto champagne e infilato una serie di gaffa assai divertenti. Ed eccomi nuovamente a Como, un poco stanca, con il portafoglio alquanto alleggerito, ma di ottimo umore. Penso di ritornare a Roma per la prima di mille lire al mese al corso e cioè fra una decina di giorni. Avrò moltissime cose da raccontarti ed anche qualche buon consiglio da chiederti. Kitty, ti chiamo da lontano ma ti sono vicino. Ascoltami. Stamane camminavo per una strada. Il cielo era coperto di nuvole. A poco a poco le nuvole si sono diradate. Filtravano raggi di sole. E mentre questi mutamenti avvenivano nel cielo io sulla terra pensavo di rivolgermi a te e di dirti qualunque decisione tu abbia preso per la tua vita ancora da percorrere. Non dimenticare che sei una creatura la cui vita deve tendere alla purezza. Sii tra le donne la più eletta. Devi prometterlo a te stessa e ho il diritto di chiederti di prometterlo anche a me perché credo di essere l'uomo che ti vuole più bene al mondo. Ciò che mi ha suggerito a chiederti questo è la tua bontà. Me l'hai dimostrata tante volte ma soprattutto una sera in cui mi sentivo male e mi sei stata vicina. Penso che è molto facile per un uomo poter avere rapporti con varie donne. Penso che sia meno facile dire io ho venerazione per una sola donna anche se questa non potrà accompagnarmi nella mia vita. Torniamo al teatro e leggiamo i nomi delle opere drammaturgiche. giochi tra teste che girano vergine di tiro ai quattroventi l'ia o l'attesa sotto le stelle tre donne e un'eremita il cammino felice carnevale tutti hanno ragione un angelo ha bussato alla porta la sorella un affare d'oro la ricchezza di queste in palcoscenico ne finiranno solo cinque lontananza ai quattroventi la sorella la ricchezza tutti hanno ragione non è possibile ovviamente parlare di ciascuno leggere o pensare di mettere in scena ciascuno però è bello ritrovarne lo spirito di quella società di quegli uomini che crescono in quella società proprio dove dovrebbe esserci più pudore dove ci dovrebbe essere il tema salvifico della donna angelo all'ennesima potenza in un angelo ha bussato alla porta Pasinetti ci dà una scena più spinta sempre in modo molto casto laddove si vede un personaggio femminile a tutto tondo bambinesco ma al tempo stesso determinato Renata Renata che cosa vuoi? perché fuggivi? fuggire perché? e dove? da questa stanza perché hai visto me non mi fai paura soltanto non ho niente da dirti ecco tutto sei stata con tua madre sull'altura non ne avevo voglia per questo sono rientrata ieri hai detto che avevi paura di me potrebbe darsi ma ora no non mi fai paura soltanto non ho niente da dirti niente da rivelarti vedi mi avvicino a te non ho paura tu prendi i miei polsi e mi attiri perché? hai timore che io ti chieda qualche cosa? non temo nulla te l'ho già detto potrei farti una domanda? fai pure perché non vuoi bene a tua madre? che cosa ne sai tu? perché mi domandi questo? con che diritto? ecco sei libera perché pensi che io non voglia bene a mia madre? è vero vai via vai via da noi due devi lasciarci mia madre e me se tua madre me lo chiede che cosa vuoi tu da noi? io ho conosciuto un giorno una donna straordinaria aveva la tua età spesso chiamava il mio nome nel silenzio un giorno mi ha domandato qualche cosa si sentiva indifesa diceva di essere sola di aver bisogno di qualcuno che la comprendesse diceva che io la comprendevo e che non la abbandonassi qualsiasi cosa avesse fatto anche se mi avesse detto di andarmene così come mi hai detto tu adesso tu assomigli a lei tu assomigli a tua madre se mia madre ti ha detto un giorno di non abbandonarla in nessun caso io ti dico ora di lasciarmi di andartene non so che cosa vuoi da me non ho bisogno di te tu ti senti troppo sola sola con me stessa e basta voglio chiederti qualche cosa di farmi il ritratto dipingo soltanto paesaggi e figure mai una volta ho disegnato un bambino che bambino? guarda è una riproduzione del disegno sembra un angelo chi è? mio figlio tu hai un figlio ho pensato che mio figlio potesse essere così dunque è un ritratto inventato e non ne hai fatti altri? no ho dipinto soltanto i paesaggi dei luoghi dove avrei accompagnato lui sei un uomo strano tu non ti si capisce e io sono bella? hai un viso attraente quando è sereno un corpo armonioso devi farmi il ritratto perché? perché voglio hai detto che ho un bel corpo ma il mio corpo sfiorirà e invece deve restare qualcuno deve poterlo vedere sempre tu devi farmi il ritratto di me nuda io non avrò paura quando guarderai il mio corpo per ritrarlo ma non dovrai toccarmi subito devi farmi il ritratto così come ti ho detto un disegno appena come quello del bambino io andrò a svestirmi nella mia stanza e ti spetterò no Renata perché? hai detto che ho un bel corpo devi ritrarlo qualcuno lo deve vedere deve desiderarmi hai capito? non farò mai quel ritratto sei una ragazza sciocca puoi dire quello che vuoi che importa il tuo giudizio credevo che tu potessi accontentarmi sei un uomo pieno di scrupoli sei tu uno sciocco non io mi dai fastidio vattene via e non guardarmi più ho anche creduto ieri sera che tu mi desiderassi mi hai guardato così a lungo dimenticando di essere venuto qui per mia madre chi mai ti ha insegnato a parlare in questo modo? lasciami lasciami ti ho detto con che diritto mi tratti così tu non sei niente per me se io sono fatta così se mi esprimo in modo che non piace a te è perché lo voglio e veniamo a un'altra opera La sorella i protagonisti questa volta sono Piero e Mariella Piero è innamorato di lei ma lei invece ama Zeno Mariella gli chiede complicità per questa sua missione infischiandosene dei sentimenti di Piero lui è debole ma la pungola Mariella ascoltami e perché dovrei? so bene quello che mi vuoi dire ti ripeto sempre le stesse cose perché non mi parli di lui invece? di lui? di Zeno già ma io lo conosco così poco come siete voi uomini non vi conoscete mai io non conosco Zeno ecco tutto dovremmo andare in città a trovarlo potresti utilizzare meglio la tua automobile che non invitandomi a fare delle gite mi tratti proprio male sono sincera e posso dirti anche questo aiutami è ridicolo quanto chiedi come posso io? tu che mi ami che dici di essere innamorato di me non vuoi aiutarmi a far capire a Zeno che gli voglio bene che vorrei si occupasse un po' più di me e invece Zeno sembra occuparsi di Elena non posso crederlo Elena è così fatua in fondo non dico che non sia una ragazza piacevole ma ecco già tutto è sbagliato a questo mondo bisogna rassegnarsi vedi come sei tu dovresti prendere le cose con maggiore disinvoltura non essere soltanto rassegnato hai una vita anche tu fai qualcosa di utile fai come Zeno ecco Zeno scrive racconti poesie io non so scrivere invece tu hai i tuoi poderi le tue industrie di conserve la ditta io vivo di quello non puoi rimproverarmi se che me ne importa del resto capisco a te non importa niente di niente sei una ragazza senza sentimento Piero ti dico queste cose per il tuo bene perché tu la smetta di seguirmi sempre di pensare troppo a me dovrei dunque continuare ad amarti in silenzio fa come vuoi Piero non posso darti alcun suggerimento in proposito sei molto cattiva con me non vorrei proprio esserlo scusami anzi ma stasera ecco sono un po' turbata è arrivato Zeno e ho deciso di no non importa che ti dica niente tanto tu non mi sei amico potrei anche esserlo no sei semplicemente curioso ho motivo di esserlo perché è una cosa che riguarda te forse potrei anche rinunciare a pensare per un momento che ti amo così tanto per poterti essere soltanto amico per potermi sentire un poco vicino a te io non sono capace di avere l'amicizia di Zeno e tantomeno quella di Lamberto o di Edoardo sono rustico come si suol dire a casa i miei amici mi chiamano il rustico è per questo che mi trovo bene in amministrazione da mio padre perché c'è tutto il giorno da far di conto da rispondere alle lettere e non ci sono cose complicate da fare o cose dove c'entri la fantasia qui invece in questa casa quando ci troviamo qui c'è un che di misterioso di strano tu che io credevo una ragazza semplice ti sconvolgi per un non nulla già da quando hai incominciato ad amare Zeno dici sai tu che vedi le cose complicate mentre non lo sono affatto perché non sai sollevarti da terra sai ci sono degli uccelli in Africa del Sud che pur avendo le ali non riescono ad alzarsi sono i kiwi anche tu sei uno di quelli ci sono anche altri uomini forse come te Zeno per esempio è diverso Zeno è un poeta vero? Zeno forse è un angelo non ti capisco proprio meglio così cercherò di farmi capire da Zeno questo io voglio ti faccio i miei più vivi auguri queste sono solo alcune delle scene di Pasinetti ce ne sono ce ne sarebbero tante altre ma rendono sicuramente l'idea di quello che era il teatro di Pasinetti di quei rapporti così complessi tra i personaggi di quella società in cui tante cose non si dicevano la drammaturgia di Pasinetti è soprattutto questi dialoghi in cui i personaggi si scavano dentro in cui i personaggi si affrontano si respingono si innamorano poi qui e lì quando Pasinetti si lascia andare un po' di più ci sono alcune piccole gemme come per esempio questa tratta da un affare d'oro che è una commedia la scritta con Enrico Colombo che poi andrà negli Stati Uniti a fare il comico il cui umorismo forse prevale sulla vena più malinconica di Pasinetti in ogni caso si parla di tre ladri Pit Pot e Pat che rubano una montagna d'oro nel paese più ricco del mondo per conquistare una donna che si chiama guarda caso Chitti ecco cosa dice la radio che annuncia al paese il ritrovamento dell'oro al termine della commedia signori come abbiamo precedentemente annunciato l'oro della nostra nazione è stato rubato e quel che è più grave è stato ritrovato giungono di momento in momento le notizie del panico che ha invaso il mondo a questa notizia purtroppo nell'altro emisfero è giorno e quindi i due emisferi si danno il cambio a non lasciarci in pace quando le banche si chiudono di qua si aprono di là e viceversa cosicché in meno di 24 ore la nostra moneta è scesa di ben 85 punti ed ha raggiunto il livello minimo dal giorno della costituzione del paese più ricco del mondo le banche si rifiutano ogni operazione sulla nostra moneta e tutto ciò accade perché si sono ritrovati 110 milioni d'oro che potevano benissimo essere rimpiazzati con pochi quintali di legna fuori uso tra poco vi daremo il resoconto del consiglio dei ministri la quotazione della nostra moneta è discesa di altri 20 punti nelle borse dell'altro emisfero il panico ha invaso le città si contano centinaia di suicidi il traffico è diventato vertiginoso 200 agenti di cambio sono impazziti vi daremo ulteriori notizie quanto prima quello che passerà ai posteri come uno dei più storici consigli dei ministri non ha ancora preso le sue decisioni le attendiamo di minuto in minuto si teme che il popolo organizzi una sommossa Pasinetti in sostanza non può sottrarsi alla retorica del regime è consustanziale al regime i suoi moti di ribellione sono piccoli impercettibili però riesce a descrivere con esattezza quel tempo lì non così lontano dal nostro fitto di dinamiche borghesi e di crisi sotterrane di proclami altisonanti e paure semplici tra cui quella di perdere gli affetti riesce a mettere Joe personaggio di colore e riesce a scrivere questo in un articolo le culture straniere non sono mai state per noi le bestie nere gli influssi stranieri nella nostra cultura non ci hanno mai offesi non dimentichiamo per carità che lo sciovinismo culturale fa sempre più male che bene è atto a impoverire la cultura di chi lo pratica nei momenti in cui una nazione è più grande allora appunto essa deve essere più che mai aperta alla cultura di tutto il mondo non è il che essere smodati e dannosamente generici in queste faccende col risultato di fare del patriottismo da mezza lira poi non va più a fondo il suo teatro è di maniera perché deve esserlo perché lui è sostanzialmente un esercizio necessario un intellettuale deve scrivere di teatro dal cinema si guadagna ma il teatro dà una dimensione intellettuale e soprattutto la prospettiva di poter tornare poi al cinema vendere i soggetti fare soldi ma Pasinetti pur un po' ingessato dalle logiche dalle pretese del regime ci fa rimpiangere che non abbia avuto tempo dopo la guerra per farci vedere di cos'era capace anche a teatro perché lui il suo tempo l'aveva capito e allora è giusto chiudere così con una frase semplice di Francesco ma sempre molto attuale non c'è solo la retorica fascista c'è qualcosa di più qualcosa che Pasinetti non ha fatto in tempo a realizzare perché se n'è andato troppo giovane a guardarci intorno proviamo un vasto e smarrito senso di desolazione ci par di vivere in una perpetua smorta stagione che dell'autunno serba solo e a tratti la vaga nostalgia di un'estate recente è giunta l'ora di un invito l'alba del nostro giorno è per i più giovani un tacito ma necessario invito alla serenità alla cultura al lavoro di un'estate goza Grazie.